Ciao e benvenuto in un mio nuovo video. Sono felicissima oggi di iniziare la nuova rubrica dove parlerò delle vostre storie. Sono troppo troppo contenta, mi avete mandato tantissime mail e messaggi privati. Piano piano le leggerò tutte. Oggi voglio leggere la storia di Claudia ma voglio fare una premessa. Se anche tu vuoi partecipare a questa rubrica dove parlerò della tua storia, soprattutto a me interessa delle tue emozioni, di quello che provi creando le tue creazioni, sarò felicissima di parlarne in un video. Oggi ti parlo, come stavo dicendo prima, della storia di Claudia. Claudia ha un marchio e su Instagram la puoi trovare che è Miss Mao. Adesso ti leggo la storia di Claudia che mi è stata mandata. Ciao Cristiana, bellissima questa cosa che stai facendo. Io cercherò di essere breve nel mio racconto ma non assicuro. Non ti preoccupare, ci piacciono le storie lunghe. Ho sempre cucito pochette e porta tabacco, tutto a mano e mi rilassava. Ho fatto mille lavori, uno diverso dall'altro. Nei momenti di relax mi trovavo a realizzare qualcosa di carino per me. Purtroppo ormai quasi otto anni fa ho perso per un brutto male il mio fidanzato storico. È stata dura ma ho sempre affrontato tutto con molta forza. Per staccare un po' da quel periodo sono partita e sono andata a vivere negli Stati Uniti per tre mesi. Ospite di mia sorella che vive in Florida. Lì ho studiato la lingua all'università e ho conosciuto tanta gente. Ho fatto qualche lavoretto di cucito per una signora che realizzava e cuciva tantissimi accessori per bimbi. Una volta tornata in Sicilia ho frequentato un corso tecnico della confezione, un'esperienza fantastica. Ho stretto nuove amicizie e imparato tantissime cose. Soprattutto cucire bene a macchina che avevo ricevuto dall'altra mia sorella per Natale. Non avevo mai usato una macchina per cucire quindi ho imparato prima da autodidatta e poi con il corso ho compreso tantissime cose. Nel frattempo però cercavo lavoro e la fortuna volle che entrassi a lavorare in un laboratorio artigianale in cui si cucivano forse per conto di terzi. Marchi importanti. Altra esperienza bellissima nonostante non sia durata tanto, sei mesi. Ma la cosa favorecita dolosa è stata incontrare quello che sarebbe diventato mio marito, Claudio. Sì, ci chiamiamo Claudio e Claudia. Lui è riuscito ad aprire quel cuore che avevo tenuto chiuso per chiunque. Dopo un amore molto intenso come quello che avevo vissuto e poi perso. La mia storia d'amore con Claudio continua e si evolve. Convivenza, figlio e dopo qualche anno matrimonio. In questi anni dopo quel laboratorio ho lavorato anche in maglificio, altra esperienza dalla quale ho imparato molto, conclusa dopo un anno. Ci sono state tantissime cose in mezzo, anche la scoperta che io non stavo benissimo. Ma tutto risolta per il meglio. Sono contenta. Però ho una condizione per cui certi lavori sarebbe meglio non farli. Arriva il mio Tommaso. Come lo chiamo io, mini noi. Mi si apre un mondo di amore. Ma la voglia di cucire è tantissima. Compriamo casa e io una mattina mi sveglio e penso, voglio fare qualcosa per farmi conoscere. E nasce Miss Mao. Con una semplice fascia pubblicato sul mio profilo Facebook, all'improvviso tutti i miei amici e amici di amici volevano qualcosa di quello che cucivo. È stata un'estate piena e intensa. E io felicissima perché finalmente facevo ciò che volevo. E vedevo che ciò che cucivo piaceva. Oggi mi definisco nubbista, cucitrice creativa. Mio marito nel frattempo mi ha costruito la mia stanza del cucito. Spero vivamente possa realizzare un altro sogno, ovvero quello di far diventare Miss Mao un lavoro vero e proprio. Ecco, sapevo che mi sarei dilungata. Un abbraccio grande e grazie per la pazienza per leggermi. Grazie Claudia. Una storia bellissima. Mi sono commossa moltissimo perché ognuno di noi ha da raccontare una vita intensa. Ognuno di noi ha dentro il cassetto non solo i sogni ma anche i dolori. A volte li chiudiamo in un cassetto, altre volte ci servono per reagire e diventare più forti. La vita è dura, la vita non è facile, la vita ci preserva a volte tante bellissime sorprese e altre volte tante bruttissime esperienze. Però prendiamo esempio da Claudia. Claudia cosa ha fatto? Non si è depressa ma ha reagito. Ha utilizzato la sua forza interiore per non rimanere ferma ma andare in America, imparare una lingua, iniziare a collaborare con una sarta per poi tornare in Sicilia e continuare a lavorare. E ha fatto tantissime esperienze. Il proverbio dice chi si ferma è perduto ed è veramente così. Quindi prendiamo tutti esempio da Claudia che non si è arresa, che ha combattuto e che poi i frutti si sono poi fatti vedere perché ha incontrato il suo grande amore con cui ha avuto un bellissimo bambino. Adesso ha aperto diciamo questa opportunità di vendere le sue creazioni che potete andare a vedere, vi lascio il link qui sotto. E questa è una storia molto importante perché ci insegna anche a noi che non siamo solo noi che abbiamo sofferto nella vita ma la sofferenza ha colpito ciascuno di noi. Chi in un modo e chi in un altro. Il cucito in questo caso ha dato quella forza in quel momento difficile di lutto che la devastava. Dunque dovremmo imparare a fare questo. Ed è questo che io intendo quando dico che il cucito è terapeutico. Quindi il cucito è terapia. Perché come nel caso di Claudia il cucito è stato per lei migliore di un qualsiasi antidepressivo. Ma lei ci ha messo di suo con sicuramente il suo carattere, la sua perseveranza, la sua voglia di vivere, la sua voglia di ricominciare. Perché è proprio vero finché c'è vita c'è speranza. Quindi se tu in questo momento stai guardando questo video e ti senti triste, ti è successa qualcosa di veramente doloroso, non abbatterti. Cerca di reagire. Reagisci come ha fatto Claudia. Non abbatterti. C'è sempre una soluzione a tutto. E magari dietro l'angolo ci aspetta un grande amore, una grande gioia che magari non avremmo mai incontrato se non avessimo avuto fiducia in noi stessi, nelle nostre capacità, se non avessimo reagito a quella situazione. Ecco cosa intendo io per cucitoterapia. Questo. Perché cucire non è solo imparare a fare benissimo i pantaloni, a effettuare benissimo una cucitura. No. Il cucito è molto, molto di più. Il cucito a volte ci dà quella forza per superare i problemi, i lutti, le depressioni, i momenti di difficoltà. È questo il valore vero del cucito. Che può essere anche qualsiasi altra arte. Ma il cucito è speciale. O almeno lo è stato per me. E mi sono commossa leggendo la storia di Claudia perché in parte è molto simile alla mia. E quindi ha risuonato dentro di me la sua storia e mi ha fatto veramente capire ancora di più quanto il cucito possa aiutarci. aiutarci anche ad uscire da un periodo di crisi economica. Possiamo metterci in gioco, avere il coraggio di mettere le nostre creazioni in vendita. Perché molte volte pensiamo io non sono all'altezza, magari non piacciono a nessuno, magari non me le compra nessuno. Subentra quel blocco che ci impedisce di mettere online le nostre creazioni. Possiamo avere il coraggio di imparare anche questo. Il coraggio di reagire, il coraggio di mettersi in gioco. Perché se tu si metti in gioco prima o poi i risultati si vedono. Magari con il tempo però si vedono. La vita è dura ma è anche una bellissima scoperta. È un bellissimo percorso dove dietro l'angolo si nasconde la felicità, si nasconde la gioia, si nasconde una nuova opportunità che magari non avresti mai pensato che ci potesse essere per te. Mai perdere la speranza perché finché veramente c'è vita c'è speranza. E quando meno te l'aspetti tutto cambia. Tutto cambia. Cambia a volte in peggio ma a volte in mezzo. E a volte quello che di brutto ci capita nella vita non sempre ha una valenza solo negativa ma anche un valore didattico. Didattico perché? Perché ci insegna a diventare più forti, ci insegna a non commettere più quegli errori, ci insegna e ci cambia in positivo. Il più delle volte sono le situazioni negative della vita che ci fanno crescere più che la positiva. È così, la vita è così. Quindi questo video dove ho letto la storia di Claudia, a cui mando un grande bacio a Claudia, a Claudio, è il piccolo mini Claudio, è il piccolino. È un bacione enorme. Siete stati secondo me di grande esempio, soprattutto per avermelo raccontato e io ho potuto avere l'opportunità di raccontarlo in questo video. Che sono sicura che sarà utile a tante persone che lo ascolteranno. Se vuoi anche tu scrivimi la tua storia. Fammi commuovere. Ne parleremo insieme in un video perché dalle storie si impara tantissimo, dalle storie di vita. E come diceva uno psicoterapeuta della Gestalt, ogni vita merita un romanzo. Tu mandami il romanzo della tua vita e io lo leggerò in un video. Grazie. Alla prossima. Ciao.